cari studentesse cari studenti voglio raccontarvi in questo breve video di qualche minuto che cos'è il corso di laurea in scienze dei materiali e quali opportunità vi può offrire intanto i nostri punti di forza il corso di laurea di scienze dei materiali è un corso di laurea interdisciplinare cesta tra la chimica e la fisica quindi permette di approfondire sia gli aspetti dei materiali fisici sia degli aspetti dei materiali chimici è costituito da laboratori tecnologicamente avanzati e potrete svolgere come anche in altri corsi di laurea un tirocinio formativo anche in aziende esterne di 250 ore che potrà darvi dell'opportunità anche dal punto di vista lavorativo un'altra importante caratteristica è che il corso di laurea in scienze dei materiali è un corso di laurea a ingresso libero quindi non dovrete passare una selezione per entrare ma sarà sufficiente che veniate e vi iscriverete potrete seguire da subito i corsi che cosa vi offriamo intanto è una laurea triennale quindi vi darà un titolo di laureato triennale e ci sarà una prima parte in cui nei primi anni seguirete dei corsi di base quindi vi formarete sulle materie di chimica e fisica matematica di base anche informatica e poi successivamente avrete la possibilità di seguire dei corsi più specialistici sia in un piano di studi con dei corsi obbligatori sia anche scegliendo dei corsi liberi quindi ci sarà un'offerta di corsi tra i quali voi potete scegliere potete scegliere anche eventualmente dei corsi di altri corsi di laurea se siete particolarmente interessati tanto per darvi qualche titolo di corsi potrete fare strutture della materia chimica dei polimeri e laboratorio chimica fisica laboratorio e termodinamica biomateriali come vedete sono tutte materie molto attuali molto importanti e che vi possono dare delle nozioni poi da spendere successivamente sia nel mondo del lavoro ma ovviamente anche continuando con una laurea magistrale infatti con una laurea magistrale voi potete seguire come laurea magistrale potete seguire sia lauree cosiddette in classe fisica sia lauree cosiddette in classe chimica quindi dopo la laurea triennale potrete seguire dei percorsi diversi a seconda dei vostri interessi a seconda di quello che avrete anche maturato durante la laurea triennale anche i corsi di ingegneria magistrali potranno essere aperti a voi ovviamente sempre nel campo dei materiali e quindi poi dicevamo ci sarà la possibilità del tirocinio quindi enti o industrie vi accoglieranno per fare delle ore che vi serviranno anche poi per la prova finale per la tesi finale potrete fare anche se volete se desiderate un tirocinio cosiddetto interno quindi questo i nostri laboratori laboratori del dipartimento un'altra possibilità che offerta dal nostro corso di laurea in scienza di materiali come da tutti gli altri corsi di laurea è la partecipazione al progetto erasmus quindi potrete spendere un periodo di sei mesi o un anno all'estero in università all'estero ovviamente continuando il percorso formativo quindi senza perdere tempo e poi ritornare per laurearti quindi che cosa potrete diventare con una laurea in scienza dei materiali e potrete diventare un ricercatore junior o responsabile del controllo di processo e qualità nell'industria di piccole e medie dimensioni svolgere assistenza tecnica in aziende di medie e grandi dimensioni e se volete ulteriori informazioni potete collegarvi sul sito del dipartimento di scienze e tecnologie e innovazione tecnologica il DISIT il cui indirizzo è www.disit.uniupo.it il corso di scienza dei materiali è un corso altamente professionalizzante e questo viene dimostrato dalla forte relazione che i nostri studenti hanno soprattutto durante il tirocinio con le imprese del territorio vercellese, novarese ma anche di tutta l'area piemontese molti studenti passano il periodo di tirocinio o in stretta collaborazione con le aziende o proprio dentro l'azienda all'interno dei reparti o all'interno delle attività di laboratorio che sono in queste attive molte volte c'è una susseguirsi di tirocinio che continuano a mantenere un rapporto consolidato da anni con alcune realtà industriali per fare un esempio lavoriamo molto col settore dei materiali cementizi con una collaborazione pluriennale con l'azienda Abuzzi Unicem ma ci sono stati molti tirocini anche legati ad attività in altri settori ad esempio i materiali compositi per l'aeronautica e il settore automobilistico in molti casi i nostri studenti dopo l'attività di tirocinio ricevono anche un'opportunità e una prospettiva lavorativa interessante mentre invece in altri casi preferiscono investire il corso di studi pregresso quindi la laurea in scienza dei materiali per iscriversi a una laurea magistrale tipo ad esempio il corso di laurea in scienze chimiche che è anche attivo ad Alessandra e i corsi di scienza dei materiali o ingegneria dei materiali Grazie